La grazia del Signore nostro Gesù Cristo L'amore di Dio nostro Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi Prepariamo il nostro cuore in questo momento nel quale accoglieremo la parola di Dio La grazia del Signore nostro Gesù Cristo Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo La grazia del Signore nostro Gesù Cristo 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti